Analisi del voto? Stiamo parlando di proiezioni, ci danno circa il 13-14%, non pensiamo sia corretto confrontarlo al dato nazionale perché sappiamo bene che elezioni nazionali, elezioni politiche e amministrative sono elezioni totalmente diverse. Alle precedenti comunali nel 2008 era un'altra storia, chiaramente non siamo entrati nel Consiglio Comunale, quindi stavamo sotto il 3%. Alle regionali su Roma abbiamo preso il 16-64%, quindi c'è un calo, ammesso che vi sia, vediamo i dati definitivi, ma non è un calo vistoso come abbiamo sentito dire. Certamente gli altri partiti hanno messo in campo una forza economica e non solo, ma anche mediatica potremmo dire, nettamente diversa. Abbiamo trovato pochissimo spazio sui giornali, è sufficiente leggere le ultime 40-50 edizioni romane dei principali quotidiani, anche le tv hanno contribuito a descrivere la nostra attività in una certa maniera. Ciò nonostante prendiamo il 14%, che era una percentuale che prendevano una volta il Partito Socialista o Alleanza Nazionale, non è una percentuale da poco conto. C'è stato poi anche Marchini, che ha tolto voti probabilmente anche a noi. Questi partiti hanno messo in campo una potenza economica notevole, avete sentito appena due settimane fa qual era l'importo che avevano investito nella campagna elettorale. Noi siamo fermi a poche migliaia di euro, oltre a quello che abbiamo speso per fare la manifestazione a Piazza del Popolo, quindi non ci sembra un risultato negativo. Entriamo in Consiglio Comunale, faremo un'opposizione molto seria, non superficiale o irresponsabile, questi sono i principali aggettivi che spesso sento dire. Invece saremo molto responsabili, molto concreti, molto determinati, molto convinti. Faremo un buon lavoro. A voi. Innanzitutto penso che nel momento in cui partecipi a una competizione è giusto che ti poni l'obiettivo massimo. Altrimenti è inutile che partecipi. Dopodiché, probabilmente, quello che già le ho detto, cioè una netta differenza nei confronti di questi due partiti, tanto economica come pure mediatica. No, abbiamo tutti dato il massimo impegno e considera che sono tutte persone volontarie che di fatto fanno questo come secondo lavoro, anche se non è un... Non è un... Non è un... Non è un... Chi è che... Sentivo... Ah, quindi persone che si sono impegnate sul territorio. Tutti, tutti veramente hanno speso il massimo. Quello che è successo a livello nazionale può avervi penalizzato? Difficile, difficile dirlo. Probabilmente non è solo quello che è successo a livello nazionale, ma anche come è stato posto. Perché si parla delle nostre diarie, ma non si dice, molto poco, quello che il Movimento 5 Stelle sta facendo, la rivoluzione che sta tentando di attuare in questa politica. Ci sono giornalisti che scrivono libri importanti sui costi della casta e il Movimento 5 Stelle sta cercando di fare una rivoluzione in questo senso e di ciò non si è parlato. Dei... Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. E di ciò non si è parlato. Del fatto che il Movimento 5 Stelle abbia restituito 42 milioni di euro di finanziamento pubblico, che abbia fatto un disegno di legge per abrucare il finanziamento pubblico, non si dice nulla. Si fa passare sotto traccia. Però si parla della diarie. Eppure, anche là, il Movimento 5 Stelle, eppure non lo neghiamo con una discussione, alla fine ha rispettato quello che era stato il patto, cioè di prendere la diarie limitatamente alle spese documentate. Beh, io parlo per me e penso che l'avete visto. Io ho parlato con tutti i giornali, sono andato in molte trasmissioni. Resta ferma la linea per cui non andiamo nei talk show. Questa è una nostra scelta condivisa per il tipo di spettacolo, di quello si tratta che spesso determinano. Però effettivamente andiamo a vedere, e la invito a farlo. Sono venuto anche nella vostra trasmissione, penso mi avete visto, in un confronto. Però se effettivamente andiamo a vedere le ultime, vi faccio un invito a farlo. 60 edizioni dei principali quotidiani romani, dei principali quotidiani nella loro sezione romana. Sappiamo da chi sono diretti, sappiamo chi sono i direttori, sappiamo chi sono i titolari di quei giornali. E' evidente che lo spazio è estremamente limitato. Il movimento non è Beppe Grillo, il movimento è il movimento. E il movimento non vedo perché. Grillo è certo, è una persona importante. È venuto, ha fatto il suo comizio come mezz'ora prima l'avevo fatto io, parlando dei temi della campagna romana. Chiedo a lei se appoggerebbe un partito che nel 2008 ha lasciato Roma con 12 miliardi di debito, di cui 6 miliardi di contratti derivati. Questo dato sul voto forse è il dato più vistoso. Ha votato un romano su due e probabilmente questa ostensione ha penalizzato più di altri noi. perché effettivamente gli altri, abbiamo visto come è stata tappezzata Roma, autobus, manifesti, tv, giornali e quant'altro. Evidentemente questi due partiti hanno avuto maggior capacità attrattiva su coloro pochi, purtroppo uno su due, che hanno espresso il voto. Abbiamo speso veramente tutti il massimo, abbiamo fatto un numero di eventi impressionanti, c'è stata una presenza sul territorio nei vari municipi, veramente impressionante, soprattutto a fronte del fatto che è stata garantita e fatta da persone che sono dei volontari. Tutte le persone hanno speso il massimo e non sono pagati di altri partiti in campagna elettorale, presumo, le paghino le persone che lavorano per loro. Noi no, sono dei cittadini come voi, cittadini che oltre al lavoro che svolgono hanno questo impegno civile e lo fanno gratuitamente. Quindi ognuno di noi nei limiti delle sue possibilità, della vita anche che conduce, ha dato e profuso un impegno massimo. Roberta Lombardi è un'amica, abbiamo anche lavorato insieme nel periodo di preparazione delle elezioni regionali. Come ha visto ci hanno accompagnato spesso negli eventi di questa campagna elettorale, quindi non abbiamo veramente nulla da rimproverare. Come ha visto a Piazza del Popolo erano presenti molti, a cominciare da Roberta e Alessandro di Battista e tutti gli altri. Comunque continueremo con le donazioni e anche con i contributi nostri volontari. Grazie.